Le mie parole, la mia relazione si concentreranno in particolare sul tema dell'alternativa nell'orizzonte marxiano. Ora io credo anch'io, come è stato detto, che le opere di Marx possono definirsi dei classici, soltanto però, come si diceva prima, se un classico è preso nell'accezione data adesso da Italo Calvino, ma anche da Franco Fortini, cioè ben lontani da qualsiasi stanza di museificazione. Soltanto c'è se queste opere, le opere di Marx, hanno la capacità di legarsi a un'istanza di attivazione e riattivazione sia individuale che collettiva. Quindi solo nella misura in cui ci interpellano ancora e ci costringono a una presa di parola, non solo in relazione al passato, ma soprattutto per il tempo in cui viviamo, quindi al presente e nella prospettiva di un futuro capace di orientarci. Ciò che infatti oggi, a mio parere, sembra mancare soprattutto è la dimensione progettuale, la capacità di pensare un'alternativa rispetto al capitalismo contemporaneo, che come ben sapete, come razionalità di governo, non solo economica ma soprattutto politica, ha richiesto la costruzione di un consenso volto a presentare come naturale una chiara costruzione sociale, politica ed economica fondata soprattutto sul presentismo, che come vedremo è un po' il tempo del neoliberalismo attuale, basata sulla rassegnazione politica, sull'azzeramento delle alternative e potremo riassumerla nell'efficace acronimo usato da Margaret Thatcher alla fine degli anni 70, TINA, There is no alternative. In questo senso, a mio parere, è il futuro che va riconquistato, è la prefigurazione che va riposta al centro dell'agire dopo anni vissuti nel segno di una distopia. Quello che va riposto al centro dell'attenzione è una concreta utopia, nel suo medesimo paradosso, un'espressione, per dirla con Bloch, propria al pensiero di Marx. Vorrei però precisare, rispetto a questo punto, che in Marx, a mio parere, l'utopia non c'è o se c'è, è solo a partire, è soltanto da un'interpretazione che la interpreta, scusate, non nelle vesti di un sogno romantico, ma di immaginazione di una società alternativa, l'autogoverno dei liberi e delle libere produttori associate, la libera associazione marxiana, che decide collettivamente dei sistemi di produzione, riproduzione, appropriazione e distribuzione per soddisfare i propri bisogni in relazione alle proprie forze e capacità produttive. In questo senso è molto evocativa la distinzione che faceva Bloch tra i sogni chimerici, le utopie astratte e fantasiose, e quelle che lui chiamava le utopie concrete, quelle che lui definiva le speranze anticipatrici che espirano la trasformazione rivoluzionaria del presente, capaci quindi di prefigurare un futuro che oggi, come dicevo all'inizio, sembra essere abolito dal presentismo, dal tempo del neoliberalismo. Come vedremo si tratta delle tendenze future, di una visione del futuro, proprie delle realtà, del punto di contatto, scriveva Bloch, tra il sogno e la vita, senza cui la vita sarebbe solo banalità e il sogno astratta utopia. L'utopia concreta a cui si riferisce Bloch, parlando di Marx, è allora quella che anticipa, collegata con il reale possibile, che non coincide con il fantasticare astrettamente utopico. Ora, in Marx, a dispetto di qualsiasi formulazione messianica o spiritualista di cambiamento, c'è invece un'idea di pratica e di liberazione come trasformazione, a partire dalla produzione, dalle sue condizioni, non dalla vita dello spirito. Contro, in questo senso, interpretazioni che sono state date, delle mille interpretazioni di cui vive Marx, evoluzionistiche, della sua filosofia, al contrario, a mio parere, nel suo pensiero vi è un rinvio costante all'imprevisto, alla molteplicità, ma anche alla eterogenità dei processi, alla rottura rivoluzionaria. Non a caso, tra gli elementi vivi del suo pensiero, capaci di contestare un'informa di teleologia, vi è proprio la politica, colta però nella sua dimensione di incertezza e di creatività. La concezione marziana dell'alternativa è allora quella di un bivio, di una posta in gioco e quindi non di un punto semplicemente di arrivo, che si pone anche al di là del fallimento catastrofico del comunismo evoluzionista incarnato dall'esperienza del ventesimo secolo. La forza e attualità di Marx risiedono al suo alludere a un processo non lineare di trasformazione, anzi la trasformazione è proprio la cifra costitutiva del punto di vista marziano, un processo aperto all'imprevisto della politica e delle lotte. La stessa figura della transizione ha un ruolo cruciale nel pensiero di Marx, a patto però che la si voglia leggere anche qui non secondo una linea di tendenza evoluzionista, ma come una figura politica della non contemporaneità di un tempo storico a sé che rimane scritto nel provvisorio. Oggi sappiamo bene, tante volte è stata usata questa formula negli ultimi anni, ci troviamo in quella che può definirsi, riprendendo un termine gramsciano, una fase di interregno in cui il vecchio è morente e il nuovo ostenta a farsi strada e nel mezzo aumentano pericoli di pesanti involuzioni. Ecco, dinnanzi a questo l'idea della transizione, quale luogo è per eccellenza della politica, dell'agire fondato sulle condizioni materiali del presente, torna a farsi utile. Ciò che quindi Marx fa, e in questo risiede a mio parere la sua spendibilità attuale, è pensare il cambiamento, e qui prendo a prestito una citazione di uno dei grandi interpreti di Marx, cioè Etienne Balibar, è pensare il cambiamento delle istituzioni storiche a partire dai rapporti di forza che sono loro immanenti, in maniera non solo ritrospettiva riferito al passato, ma soprattutto in maniera prospettica riferito al futuro. La stessa immagine del comunismo, una delle tante immagini, come il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente, tra l'altro una delle immagini preferite da un altro grande interprete di Marx, cioè Althusser, è presente, come sapete, nell'ideologia tedesca, consente di sgomberare il campo da ogni finalismo e di recuperare in Marx, il suo pensiero, l'immanenza dell'alternativa rispetto alle lotte del presente e alle trasformazioni che queste producono nella società e nei suoi protagonisti. Ora, rispetto a questa possibilità dell'alternativa, io credo che sia necessario richiamare uno dei punti di maggiore forza presenti nel capitale, ricordando che Marx, nello scrivere questa sua opera, fu, tra virgolette, uso questa espressione, ossessionato, che tra l'altro credo sia stata usata anche nell'ultimo libro di Harvey, dal comprendere non solo le leggi e i principi del capitalismo, ma anche le tendenze future, dove cioè quest'ultimo, il capitalismo, aprisse alla rivoluzione, come fosse possibile uscirne. In questo senso nel capitale non c'è solo l'individuazione della legge fondamentale di funzionamento dell'economia politica capitalistica, ma vi è anche, tra virgolette, l'oltre in senso materialista. Quindi non c'è solo la critica scientifica del capitalismo, della comprensione delle logiche di espropriazione della classe lavoratrice e di valorizzazione del capitale, ma è anche presente la politica, la lotta di classe, come sono presenti lo Stato, la legislazione, il diritto, mai disgiunti però dal terreno del conflitto. Come è stato di recente, anche messo in evidenza in un altro convegno su Marx, svoltosi a Roma, da Balibar, nel capitale c'è quella che lui ha definito una sorta di doppia elica, cioè l'individuazione della traiettoria della valorizzazione, come processo continuo di espropriazione del lavoro vivo e creazione di valore, ma al tempo stesso sono presenti gli aspetti legati alla lotta, al conflitto, senza che si dia mai un determinismo nell'analisi. Questa compresenza si dà assumendo anche l'enunciazione marxiana contenuta nel capitale, secondo cui quest'ultimo, il capitale, non è una cosa ma è un rapporto sociale tra persone mediato da cose. Formulazione questa che è stata anche alla base di un nuovo materialismo di Marx e che ha consentito negli ultimi anni di recuperare la problematica della produzione di soggettività, connessa a quell'analisi del processo di valorizzazione che produce e riproduce continuamente le figure soggettive del capitalista e dello sfruttato dell'operaio salariato, a loro volta necessario presupposto. Problematica che fa proprie le complesse coimplicazioni tra lo sviluppo capitalistico e le figure soggettive tra cui si determina appunto il rapporto sociale che è il capitale. Lo stesso termine rapporto apre tanto alle condizioni di assoggettamento ma anche apre alla sovversione e alla trasformazione, su questo rinvio in particolare a un testo di Sandro Mezzadra. La trasformazione si ha sullo stesso terreno della valorizzazione del capitale su cui si esprimono le contraddizioni e gli antagonismi che segnano il modo di produzione capitalistico, base e materiale per la rottura della continuità della sua storia. Ciò che quindi è presente nel capitale e che Marx prese in considerazione nel suo costante divenire, movimento, è esattamente un'idea della tendenza e della sua contraddizione interna. Si tratta della presenza di una logica contraddittoria, come avrebbe chiamata più tardi Rosa Luxemburg, interna e scritta nel capitale, alla luce dell'individuazione di un conflitto tra due opposte tendenze. Una che è quella che mette in moto spinte progressive che si rifanno a una logica socializzante dello sviluppo delle forze produttive e l'altra che risponde invece alla logica del profitto, che resiste, blocca lo sviluppo delle spinte socializzante. È quindi l'antagonismo tra tendenze e controtendenze di socializzazione. È la contraddizione tra la socializzazione della produzione e la tendenza alla parcellizzazione della forza lavoro, al super sfruttamento e all'insicurezza di quella che era la classe operaia. E qui la lotta di classe è un ruolo decisivo per la risoluzione della contraddizione oggettiva che viene trasformata in conflitto e viceversa. Qui la politica gioca un ruolo chiave, a partire però dal protagonismo delle soggettività politiche capaci di inserirsi all'interno di questa logica antagonistica, di prenderne atto utilizzando la spinta oggettiva per realizzare di volta in volta le proprie nuove conquiste. Il terreno allora è quello delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici per rimigliorare le proprie condizioni. E in questo sono esemplari alcuni passaggi che Marx fa nel Capitale, in particolare nel primo libro, al capitolo tredicesimo, su macchine e grandi industrie. E grandi industrie, scusate, qui citerò solo qualche cosa. Ad esempio, scrive Marx allo sviluppo della grande industria che si determinano contraddizioni tali della forma storica capitalistica della produzione da condurre nel loro svolgimento alla stesso rovesciamento di essa. Sono le nuove condizioni di lavoro della grande industria ad aprire alle possibilità della ricomposizione dell'individualità, all'abolizione, scrive Marx, della vecchia divisione del lavoro, alla possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di utilizzare le novità introdotte per i propri fini, confliggendo in ordine all'antitesi che si produce tra la forma, scrive Marx, capitalistica della produzione e la situazione economica degli operai che le corrisponde e al tempo stesso i fermenti rivoluzionari che si danno. La contraddizione profonda che si genera allora nella grande industria è, tra questo bisogno di avere a disposizione, scrive Marx, la disponibilità assoluta dell'essere umano per il variare delle esigenze del lavoro, l'adattabilità e la fluidità del lavoro, la maggiore qualificazione dell'operaio e dall'altra parte però la riproduzione dell'antica divisione del lavoro nella sua forma capitalistica, l'alienazione del sistema delle macchine, quello che Marx chiamava l'olocausto, scusate, in interrotto, delle classi lavoratrici. Era il gorilla ammaestrato di Gramsci. E su Gramsci appunto non mi soffermo. È proprio qui allora che si inserisce, dicevo, il protagonismo delle lotte, dei conflitti, delle conquiste strappate al capitale, della politica organizzata, a cominciare dall'uso delle potenzialità insite nel processo menzionato ai fini rivoluzionari. Per riportare un altro esempio nello stesso capitolo, la generalizzazione della legislazione sulle fabbriche, se da un lato, scrive Marx, accelera la trasformazione dei processi lavorativi dispersi in processi lavorativi combinati su larga scala e con ciò aumenta la concentrazione del capitale e il dominio esclusivo del regime di fabbrica, dall'altro lato essa permette il maturare degli antagonismi della forma capitalistica del processo di produzione e gli sviluppi quindi di elementi di formazione di una nuova società. Le stesse forme sociali di cooperazione e socializzazione presenti nel capitalismo, se organizzate, possono evolvere in altro modo. Si tratta quindi della presenza interna ad esso di forme sociali antitetiche e foriere di un'alternativa concreta. Mi sono chiesta se non è in fondo la stessa lezione racchiusa nell'efficace formula marxiana dell'antinomia del diritto contro diritto a tornare utile al fine di intercettare questa logica contraddittoria, cioè l'irruzione di quella che è una logica nuova socializzatrice delle forze produttive all'interno del vecchio sistema delle leggi. Una lezione fondamentale nell'intento di delineare un orizzonte alternativo che si prospetta a partire dalle condizioni materiali date. Un orizzonte che si apre a cominciare quindi dall'individuazione di quelle antinomie attorno a cui la lotta quotidiana e pratica per le riforme sociali apre lo spazio per cui diventa attuale anche l'abolizione del sistema salariale, lo spazio per qualcosa quindi di più ampio, lo spazio per la liberazione. Nella prospettiva di superamento del capitalismo lo stesso discorso marxiano si conclude con quella che lui chiama la negazione della negazione. Marx scrive che la negazione della negazione non ristabilisce la proprietà privata ma invece la proprietà individuale fondata sulla conquista dell'era capitalistica sulla cooperazione, sul possesso collettivo della terra e dei mezzi di produzione prodotti dal lavoro stesso. L'espropriazione è quindi la modalità violenta con cui ha origine il capitalismo ma al tempo stesso tuttavia nello sviluppo di questo processo si produce l'anticipazione della sua fine, le condizioni per l'alternativa, le forme antitetiche che porteranno alla distruzione stessa del capitalismo. Uno dei punti di maggiore attualità di Marx e del capitale allora è la presenza di questa logica contraddittoria tale per cui assieme alla distruzione, espropriazione, sfruttamento della classe operaia e oggi chiameremo, diremo con un linguaggio gramsciano, postcoloniale dei subalterni, vi è anche la produzione di nuove forme di espropriazione contro gli espropriatori e c'è al tempo stesso una produzione di soggettività antagoniste e in lotta. In questo senso la critica di Marx è essenzialmente una critica immanente. Ora non posso soffermarmi su tutte le trasformazioni storiche attraversate dal capitalismo negli ultimi 40 anni rispetto alla fase precedente, a quella chiamata, come sapete, i 30 gloriosi. Sul passaggio c'è dal modello chiamato, riprendendo anche nel linguaggio di Polani, dell'embedded liberalism, o anche detto capitalismo storico, a quello che è stato chiamato capitalismo assoluto, postcoloniale e postsocialista, o anche detto neoliberalismo. Io preferisco, con tutte le precauzioni che circondano questa espressione neoliberalismo, comunque la preferisco a quella di neoliberismo proprio perché quella di neoliberalismo esprime una razionalità di governo non solo, come dicevo all'inizio, economica, ma anche politica. Tuttavia vorrei richiamare gli elementi qualificanti di questa organizzazione che, come dire, portiamo sulle nostre spalle. Ci sono senza dubbio elementi comuni, come hanno notato numerosi storici o sociologi, penso per esempio a Streck, hanno messo in evidenza caratteristiche comuni dell'attuale forma di capitalismo, in particolare la finanziarizzazione delle vite, la messa al lavoro e a valore di nuovi ambiti, in particolare quelli che attengono alla vita. La logica neoliberale infatti prevede, come sapete, un individuo capace di autoamministrarsi, di farsi imprenditore di se stesso, in tutte le sfere della vita quotidiana, con tutte le conseguenze che percepiamo sul nostro vissuto. Come ha scritto Roberto Finelli, dinnanzi a un restringersi dello spazio psichico, interiore e verticale, a una drammatica regressione antropologica dell'umanità riguarda la capacità di muoversi nel mondo appropriandosi di un progetto proprio di vita. Come ha da tempo osservato un'altra importante filosofa, Wendy Brown, la modalità governamentale propria al neoliberalismo comprende l'insieme di tecniche di governo che vanno oltre l'azione statale in senso stretto e organizzano il modo di gestire se stessi, di noi stessi, degli individui e quindi contemporaneamente il governo di sé, di noi stessi e degli altri. Su questo non mi dilungherò chiaramente, essendo stato l'oggetto di una vastissima letteratura negli ultimi dieci anni, riassumibile però sempre, riprendo, nella formula tacceriana, the object is to change the soul. È il disciplinamente, la cattura dell'anima di un individuo messo a valore in ogni aspetto del suo essere, costretto, dicevo prima, a essere imprenditore di sé, conforme all'etica dell'impresa, alla concorrenza, alla valutazione, alla performance, alla prestazione, all'autovalorizzazione, eccetera, eccetera. Si tratta quindi della presa esercitata dal sistema sui corpi, in primis, sulle psiche, sulla psiche, sulle emozioni, continuamente messi al lavoro, dell'estrazione di valore dalla vita, dello sviluppo di un processo nel quale la valorizzazione ha catturato un ambito dopo l'altro la vita stessa e le attività umane e in particolare ha catturato dopo l'ambito della produzione, quello della riproduzione. Allora, in momenti come quello attuale, caratterizzati da una stabilizzazione reazionaria, funzionale alla crisi stessa dell'ordine neoliberale, caratterizzati da fenomeni che la sociologa Sassen ha chiamato distruzione, espulsione, spogliazione, miserimenti ed esclusione di masse crescenti di persone colpite dalla finanziarizzazione onnivora, io credo che divenga urgente una riflessione, un impegno politico-culturali in una direzione capace di restituire a vita l'elaborazione di Marx, come è stato scritto conferendori il posto di insuperabile trattatore tra la filosofia e la politica. Ciò significa allora, a mio parere, restituire vita a quell'espressione felice posta alla fine quasi del primo libro del Capitale. Gli espropriatori, scriveva Marx, vengono espropriati, è la negazione della negazione. Si tratta cioè della combinazione antinomica e paradossale di distruzione e creazione, all'origine ma anche alla fine del capitalismo, alla base dell'espropriazione a danno dell'allora classe operaia, ma anche al principio dell'espropriazione da essa agita contro gli sfruttatori, al principio di una riappropriazione da parte dei soggetti subalterni di un mondo nuovo. La combinazione di una logica dell'espropriazione e di una logica di riappropriazione, in altri termini. La combinazione tra dispositivi di assoggettamento e pratiche di soggettivazioni, come un campo di tensione e di battaglia continuo. D'altra parte, nel contesto odierno, si rende più che mai evidente una continuità dell'accumulazione originaria, con caratteristiche analoghe a quelle descritte da Marx, che erano all'origine del capitalismo, dal sistema di credito alle guerre coloniali, alla privatizzazione, all'enclosure, al ruolo degli stati, allo sfruttamento vandalico del lavoro vivo, ma anche in forme intensificate e nuove. Penso in particolare a forme di violenza a volte a colpire soprattutto le donne, penso alle inedite tecniche di governo e disciplinamento dei corpi e penso alle gerarchizzazioni sulla cosiddetta linea del colore, ovvero alla razionalizzazione. La logica dell'espropriazione e dell'estrazione si riproduce allora sia al centro che nelle periferie del nostro mondo, posto che è sempre più complicato distinguere quale centro e quale periferia. E al contempo estraneazione, sfruttamento, spossessamento, ma anche privatizzazione, mercificazione di risorse comuni, conoscenza, istruzione, natura, welfare, cure sanitarie, caratterizzano il capitalismo contemporaneo, rendendo però vivissime le analisi scientifiche di Marx e soprattutto il suo progetto di trasformazione e di riappropriazione di un'umana essenza. Marx allora continua a essere fondamentale per comprendere e criticare le dinamiche del presente e non a caso è tornato a essere interrogato da più parti del mondo e le sue categorie interpretative a essere utilizzate per far luce sui rapporti di dominio e sfruttamento attuali, ma anche sui conflitti, sulle lotte che sfidano le dinamiche, i dispositivi e l'organizzazione del capitalismo di oggi, riqualificando anche il problema della liberazione. Il processo al quale si assiste è infatti ambivalente e di questo processo vanno colte a mio parere crepe, sconnessioni, fratture, saper vedere la forza del capitalismo ma anche cogliere i punti critici della sua egemonia, le stanze nuove che emergono a partire dalle irriducibili differenze, come soprattutto il femminismo italiano accolto, dalla molteplicità delle soggettività e in ordine ai bisogni e desideri e alle potenzialità produttive a livello sociale. È in questa complessità, e qui giungo la fine, che occorre muoversi nelle tensioni del presente, occorre muoversi a mio parere sulla scia di quanto si registra a livello di quella evocata di cui ho parlato logica socializzante in termini di produzione di soggettività, di nuove forme di lotte e di conflitto che investono il piano materiale della vita, i rapporti di produzione e di riproduzione. Occorre quindi muoversi in base a queste nuove, dicevo, forme di lotte e di conflitto, di stanze di uguaglianza e libertà sempre più diffuse, istanze eccedenti nelle quali si esprimono la volontà e il desiderio di coloro che esigono direttamente essere artefici delle proprie vite, e in questo senso la soggettività assunta nel paradigma marxiano esprime tutte le sue potenzialità. Il pensiero di Marx quindi torna a mio parere essere utile, metodo per interpretare e pensare a un cambiamento possibile in direzione di una libertà e di un'uguaglianza reimmaginate, praticate e rilanciate come l'obiettivo della sfida attuale. Libertà e uguaglianza che al pari di uguaglianza e differenza, individuo, individualità e comune, vanno pensate nei loro intrecci e nessi, in un orizzonte di risignificazione, volta ad aprire la stessa uguaglianza a un percorso di liberazione, capace di prospettare una ugualizzazione della libertà, un'uguaglianza quindi che non è una neutralizzazione delle differenze, ma è la condizione e l'esigenza della diversificazione delle libertà. Libertà e uguaglianza quindi tornano a essere la posta in gioco di un conflitto tra quelle figure soggettive determinanti il rapporto sociale che appunto è il capitale. E io credo che proprio sulla base, qui concludo, di un processo di liberazione pensato in questi termini, è possibile anche riformulare il tema dell'anticipazione. Così formulato, esso non ha nulla a che vedere, ricollegandomi all'inizio con il rinvio al mondo dei sogni, al contrario la possibilità di trasformare il mondo presente in cui viviamo, proviene dalla potenzialità del conflitto, dalla capacità di espandere la democrazia, di reimmaginare e riarticolare il nesso tra libertà e uguaglianza, tra universalismo e differenza, riformulando anche l'universale a partire dalle differenze e dalla differenza. Proviene in quella che, come ha scritto Finelli, è una ricerca di una simmetrica articolazione tra comune e singolare, tra individuazione e socializzazione. Proviene dall'agire stesso dei soggetti, delle soggettività immersi nella logica dinamica del cambiamento in un futuro che è però già presente.